La volo maschile in Superlega, Trento e Piacenza si confermano in testa, punteggio pieno dopo tre giornate il punto con Marco Fantasia. La coppia Trento-Piacenza resta in testa, punteggio pieno anche dopo la terza giornata che non ha fatto registrare grandi sorprese. I campioni d'Italia sono passati a Milano al termine di quattro set molto serrati, soprattutto nei primi tre si è giocato punto a punto. Nel quarto Trento è riuscita ad allungare, Michieletto ne ha fatti 23 per Milano, il top scorer è stato il Belga Regers con 19 punti. Piacenza ha dovuto impegnarsi a fondo e superare qualche momento di difficoltà per avere la meglio su Cisterna, determinante il finale di quarto set di Yuri Romano che dopo una partita di luce e ombre ha piazzato gli attacchi decisivi. L'ultimo punto è stato di Simon. È stata una partita speciale per il coach di Cisterna, Falasca, che a Piacenza vinse uno scudetto nonostante un grave infortunio e che con il tecnico di Piacenza, Anastasi, vinse un clamoroso titolo europeo con la maglia della Spagna. I pontini, nonostante Ramon a quota 18 punti, restano ultimi con un punto insieme a Grottazzolina, battuta sabato da Verona, ma scontano un avvio di campionato che li sta mettendo davanti a tutti i top team. Le basi per recuperare e fare una stagione tranquilla ci sono tutte. All'inseguimento della coppia di testa, a quota 8, rimane Perugia, vittoriosa nell'anticipo a Modena. A 6 punti c'è la Lube, che ha regolato Monza con un netto 3-0. Passo avanti di Padova, che spugna Taranto 3-1.